Grazie a tutti Goal! Florenzi è venuto adesso qua in tribuna ad esultare Non so chi andrà a abbracciare, non lo so È andato adesso qui in mezzo al pubblico È arrivato in mezzo al pubblico, andrà a abbracciare non so chi Comunque Alessandro Florenzi raccoglie il pubblico E raccoglie l'abbraccio e l'ovazione Da parte del pubblico giallo rosso Dai il gol del 2-0 Grande Ale al tredicesimo Grande Ale Alla nonna È andata ad abbracciare la nonna È andata ad abbracciare la nonna Se prende pure un'ammunizione perché è andata ad abbracciare la nonna Io dico se si può appena nonna Si potrebbe pure evitare Ammonito Ammonito Alessandro Florenzi Perché è andata ad abbracciare la nonna Grande Ale Grande Ale